L'onorevole Rosso ha spiegato che in questi anni è andato tutto bene, tranne che nella sanità. Ora stiamo parlando dell'80% del bilancio della Regione. Onorevole Rosso, su che cosa è andato tutto bene? E ha fatto per questo una proposta che noi condividiamo. Non serve Alisa, serve una direzione generale che programmi, serve tornare a investire sulla sanità pubblica, perché lo vogliamo dire al sindaco Bucci, a lui piacerà l'America, a noi piacciono tante canzoni americane, tanti film, ma a noi non ci piace il fatto che se uno va al pronto soccorso gli chiedono la carta di credito. Noi vogliamo una sanità pubblica e gratuita, come previsto dalla nostra Costituzione. Questi sono la coalizione del BO, perché tutte le volte che su questi punti il mio avversario viene fermato, intervistato, se i giornalisti ci riescono, e risponde vedremo, studieremo, approfondiremo. Io non ho bisogno di approfondire per dire che cosa bisogna fare sulla sanità, e lo dirò fin dai prossimi giorni, a partire dal fatto che Alisa va superata, che va rifatto il piano territoriale, che bisogna fare in modo che i soldi non vadano alle cooperative private, ma siano utilizzati sul personale degli ospedali. Sono troppi, tanti i Liguri che hanno deciso di non curarsi più, che non si riescono a curare più, oppure che vanno alla sanità privata perché si è voluto fare un favore alla sanità privata nel corso di questi anni. Noi quando difendiamo la sanità pubblica non difendiamo semplicemente un servizio universale, difendiamo un monumento di welfare. Noi dovremmo fare delle statue, due persone che non sono sufficientemente ricordate, che sono Aldo Agnasi e Tina Anselmi, che sono i padri della riforma sanitaria, perché una volta la gente si curava in funzione del lavoro che faceva, e pensate cosa vuol dire se si tornasse lì. Io ho paura delle persone che pensano di avere sempre la verità in tasca. Diceva Eugenio Montale, l'uomo che se ne va sicuro. Ecco, io non ho tutte le sicurezze, però una ce l'ho, siete voi. Voi siete la forza che può fare la differenza. Ditemi quando sbaglio, incoraggiatemi quando sarà necessario, ma aiutatemi tutti con la vostra intelligenza, con la vostra passione. E io vi prometto una cosa, che non mi risparmierò, che metterò al servizio di questa battaglia ogni energia, ogni minuto, ogni momento che sarà necessario a confrontarsi, a parlare, a convincere qualcuno, a fargli cambiare idea. Perché questa battaglia è troppo importante e la dobbiamo vincere. La possiamo vincere soltanto insieme.